Siamo molto felici di avere il prodotto di SMA nei ST booths qui all'Elettronica 2022. Crediamo che sono state-of-the-art in termini di invertersi fotovoltaici. Come potete sapere, un inverter fotovoltaico trasforma l'energia di solare, capturata da pannelli solari, in un'energia elettrica. Come un spazio globale in fotovoltaico, vediamo che la SMA ha impostato le standard per gli invertersi e i sistemi di sviluppo di energia del futuro. In collaborazione con i loro partenari e i clienti, la SMA contribuisce attivamente a trasformare a un supply di energetica e decentralizzato e rinnovabile. In effetti, sono a 100 gigawatt installati, combinati con 3 gigawatt di inverter, soldati all'interno. Cosa è molto interessante con i loro partenari, è che offrono un grande range di soluzioni, da piccoli sistemi di casa e commerciali, all'interno del megawatt. Focussiamo sulla installazione di casa e guardiamo il inverter fotovoltaico di Sunny Boy qui, dietro a me. Il designare questo tipo di inverter è molto difficile, perché gli ingegneri devono evitare l'esercizio e preparano per un grande range di temperature, condizioni di luogo e variazioni di voltage, mentre mantenendo l'invertero abbastanza piccolo per affidare in maggior parte e rendendo l'esercizio abbastanza carico per rimanere accessibile ai consumi. Questo inverter combina tecnologiche molto efficienti di potenza di potenza e di ST, con il microcontroller STM32. Queste tecnologiche di ST key sono stati adottati dai ingegneri SMA per creare un sistema che può offrire un grande rischio. Infatti, Sunny Boy fa l'utilizzo di energia di surplus tra le limitazioni di attività dinamiche e la rischio aumenta più grazie a quello che si chiamano l'integrazione di shade integrata. Sunny Boy è un'eccellente soluzione in cui è combinabile, come dicono, e può essere combinato con l'intelizzo di energia e le soluzioni di energia e le soluzioni di energia dependendo su quello che il cliente necessita. Poi, un'altra grande avvantaggio di questo prodotto è che è davvero abbastanza compacta. Come vedete, si mesura 46 x 36 x 12 cm e pesa solo 17,5 kg. Le soluzioni di semi conduttori sono principali alla topologia ottimizzata aiutando questo design compacto. e questo è proprio il start della giornata. Grazie alla massiva penetrazione dei tecnologi di silicon carbide all'interno del mercato gli inventori di fotovoltaico come SMA sono inovati il loro numero di prodotti. Vediamo molte compagni che estendano l'utilizzo di silicon carbide da piccoli e commerciali di un po' kilowatt alle inventori di fotovoltaico centrali che sono nella megawatt del mercato. La generazione di silicon carbide è iniziata un aumento significativo in efficienza che non solo salva energia ma anche costi risulta in installazioni più e più più meno costi e costi del prodotto. se parliamo di prodotti che sono usciti per questo tipo di applicazione di silicon carbide generazione 3 che sono disponibili in particolare moduli e per che possiamo aiutare i nostri clienti a st.com slash sic